prende forma il consiglio regionale Carloni e Biancani i più votati due bambini positivi al covid chiuse intere classi a Urbania e Petriano a novembre torna il ROF con una straordinaria edizione autunnale Vallefoglia nel weekend la quarta fiera di San Michele Arcangelo benvenuti a tutti voi che state guardando Rossini tv sul canale 633 digitale terrestre ma anche a coloro che ci stanno guardando in streaming sul nostro sito oppure in diretta dalla nostra pagina facebook oggi è mercoledì 23 settembre siamo pronti per il nostro notiziario che questa sera parte con la politica perché sta prendendo forma la nuova regione Marche targata Francesco Acquaroli un'amministrazione in cui è pronto per un ruolo di primordine il fanese Mirco Carloni già certo di un posto in consiglio regionale dopo aver ottenuto il massimo dei voti fra i candidati della Lega per Carloni non è infatti da escludere né un assessorato né una vicepresidenza allora lo abbiamo intervistato in questa intervista di Simone Celli Mirco Carloni oltre 6800 preferenze si aspettava questo tipo di risultato? Beh no ovviamente non me l'aspettavo è stata una graditissima sorpresa e la cosa straordinaria che però si percepiva durante la campagna elettorale era l'entusiasmo che veniva dalla gente quando capitavano incontri pubblici privati insomma c'era un entusiasmo un fermento che in passato non c'era quindi credo che siamo riusciti a interpretare bene quelli che erano le esigenze e quelle che sono i bisogni della nostra comunità e adesso abbiamo davanti una sfida importante che è quello di mantenere quell'impegno mantenere quella tenacia e quella audacia che abbiamo promesso in campagna elettorale. Quali sono i punti di forza che l'ha portata così in alto? Beh sicuramente il fatto che la gente mi ha sostenuto avendo quei requisiti che probabilmente in questo momento erano quelli più richiesti cioè quello della competenza e anche dell'esperienza che probabilmente anche a differenza del passato oggi vengono particolarmente richiesti come è giusto che sia in qualunque organizzazione che la classe dirigente di quell'organizzazione così come per il governo locale abbia delle competenze e delle esperienze credo che sia il minimo sindacale da cui richiedere e nel mio caso probabilmente forse mi ha premiato questo e probabilmente ecco questo è stato il punto di forza. Quali sfide le attendono? Beh le sfide sono tante e sentiamo già la preoccupazione di quello che c'è da fare perché non è sicuramente una passeggiata. La prima sfida la più importante è probabilmente quella di dare servizi in modo omogeneo sul territorio chiudere una fase storica dove si è in qualche modo generata provocata una disuguaglianza sociale tra la costa e l'entroterra. Questa disuguaglianza è molto molto forte l'abbiamo sentita in campagna elettorale ci sono molte persone che non credono al futuro non hanno speranza per sé per i loro figli quindi probabilmente dobbiamo dare coraggio e speranza a chi vuole continuare a credere in questa terra e vuole continuare ad investirci e a viverci. In questa tornata elettorale c'è però un candidato che ha battuto ogni record di preferenze. Si tratta del pesarese Andrea Biancani votato da 10.224 marchigiani ma che per la prima volta in carriera si troverà all'opposizione. Lo abbiamo intervistato. Devo dire che è stato uno slogan molto efficace che rispecchia un po' il modo con il quale ho deciso di fare politica ormai da un po' di anni. La mia politica è una politica appunto del fare, una politica che è sempre disponibile rispetto ai cittadini. In questi anni mi sono veramente speso tantissimo per ascoltarli ma per cercare anche di risolvere i problemi che i cittadini mi sottoponevano. Quindi veramente uno slogan azzeccato e devo dire che i cittadini hanno riconosciuto il grande lavoro che ho fatto nel corso di questi cinque anni. Quali sentimenti dopo questo particolarissimo risultato clamoroso a livello di preferenze personali ma di fatto che emerge da uno schieramento che ne esce sconfitto? Beh devo dire che sono veramente soddisfatto perché orgoglioso di questo risultato perché se così tanti cittadini hanno voluto esprimere la preferenza perché vuol dire che sono 10.224 persone che sono andate a votare che hanno scritto il mio cognome. E già è molto difficile prendere preferenze ma prendere così tante è veramente un riconoscimento molto importante. Io quindi mi sento anche un grosso carico addosso perché ovviamente è una grandissima responsabilità perché se tante persone pongono così tanta fiducia verso di me vuol dire adesso le persone si aspettano di essere come dire ricambiate cioè si aspettano che il lavoro che io porterò avanti in questi cinque anni in regione sarà un lavoro importante a tutela e sicuramente a favore di quelle che sono le politiche che verranno fatte per questo territorio. La regione l'ho sempre detto è un ente molto importante, è un ente che si occupa di tante competenze e quindi questo territorio non può fare a meno della regione. Ho già detto che sarò disponibile ovviamente sono stato eletto come consigliere di opposizione ma farò una posizione costruttiva nel senso che cercherò di dialogare, di confrontarmi ovviamente spetterà anche all'opposizione cercherà di capire se vuole dialogare o non vuole, alla maggioranza se vuole dialogare o non vuole dialogare con l'opposizione ma per quanto mi riguarda metterò sicuramente la mia esperienza e le mie capacità a disposizione di tutta la nostra comunità. L'ultima cosa il suo risultato è forse la cartina tornasole di una politica sempre più attenta alle persone piuttosto che gli schieramenti ai colori politici. La domanda è guardando le persone sarebbe cambiato qualcosa se come candidato ci fosse stato ancora Ceriscioli rispetto a Mangialardi. Qual è la tua valutazione in merito? Beh rispetto al sostegno a me e al sottoscritto devo dire che è stata veramente un voto in molti casi anche molto trasversale. So che mi hanno votato persone anche che normalmente non votano centro-sinistra. Questa è dimostrazione del grande lavoro fatto e dell'apprezzamento un po' delle persone. Quindi i cittadini hanno votato sicuramente il Partito Democratico ma hanno votato anche Andrea Biancani come persona. Questo va sicuramente sottolineato. Rispetto a se fosse stato Ceriscioli il candidato presidente devo dire che è sempre difficile fare con i secoli ma è difficile dire quello che sarebbe avvenuto. Ceriscioli ovviamente in questi cinque anni ha lavorato tantissimo. È stato un presidente che è stato molto sfortunato perché ricordo il terremoto, ricordo la riforma comunque sanitaria, una riforma che è iniziata non dal presidente Ceriscioli ma era precedente poi non era mai stata applicata. Il tema di Banca Marche. Quindi difficile dirlo. Io dico solo che Ceriscioli sono stato vicino con lui tutti questi anni. Ha lavorato tantissimo ma probabilmente non è riuscito come dire a trasmettere tutto il lavoro che aveva fatto ai cittadini. E dopo pochi giorni di scuola emergono i primi casi di coronavirus fra i banchi. Due casi rilevati in altrettante scuole primarie. Una bambina dell'Istituto Comprensivo della Rovere di Urbania e un bambino dell'Istituto Pascoli di Gallo di Petriano. Entrambi hanno manifestato sintomi influenzali e le famiglie hanno deciso di sottoporli al tampone. I due esiti positivi hanno immediatamente innescato i protocolli previsti dalle scuole che hanno chiuso le due classi sottoponendo a isolamento fiduciario tutti i compagni, gli insegnanti coinvolti e alcuni bidelli. Ad oggi nessun altro risulterebbe coinvolto da sintomatologie da coronavirus. Resta comunque alta l'allerta in una provincia che anche nelle ultime 24 ore ha rilevato 12 nuovi casi di contagio sui 32 registrati nelle Marche. E davvero una tragedia si è consumata ieri pomeriggio intorno alle 17.30 in via 11 febbraio una giovane donna si è gettata da un palazzo proprio collocato in questa via. Vediamo il servizio. Ci troviamo nel centro storico di Pesaro e precisamente in viale 11 febbraio dove nel palazzo alle nostre spalle ieri sera si è consumato l'estremo gesto di una donna di 33 anni che alle 18 e 15 circa si è gettata dall'ottavo piano di questo edificio. La donna abruzzese ma che viveva a Pesaro non era residente del palazzo ma vi è entrata probabilmente trovando il portone aperto ed è salita fino all'ultimo piano. Da qui la decisione di gettarsi nel vuoto del cortile interno del palazzo morendo sul colpo. L'altezza non ha lasciato scampo. Tante le persone fra residenti e passanti che fra viale 11 febbraio via Contramine e via Curiel si sono assiepate nel capire cosa fosse successo alla vista del dispiegamento di ambulanze, autogru dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso e trovare sul posto una borsa con a fianco un biglietto, biglietto d'addio probabilmente rivolto ai familiari più stretti della ragazza. Si è tenuto ieri a Pesaro il consiglio comunale che ha approvato all'unanimità la modifica al piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 che prevede lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del ponte in strada del Foglia, del cavalcaferrovia di Monte Grappa e di lavori di efficientamento energetico delle scuole di Via Fermi e di Borgo Santa Maria. Tra le delibere proposte anche l'acquisto delle aree ferroviarie in via dell'Acquedotto per un valore di 1.402.000 euro in cui realizzare pista ciclopedonale, parcheggio e recupero dell'edificio locomotive ferroviarie. Durante il consiglio il sindaco Ricci ha fatto ricorso all'articolo 88 del regolamento comunale definito pregiudiziale per rinviare la discussione della mozione proposta dalla consigliera Giulia Marchionni in merito alla richiesta di sospensione dell'intitolazione a Bettino Craxi dei giardini di piazzale Matteotti. In tempi di covid e quest'anno per la prima volta assoluta il Rossini Opera Festival torna eccezionalmente anche a novembre, un appendice autunnale che si aggiunge alla tradizionale edizione di agosto che ci viene illustrata in questo prossimo servizio. Il sipario abbassato in agosto si risolleva a novembre. È stata presentata oggi nelle comune di Pesaro una straordinaria appendice autunnale alla tradizionale edizione estiva delle Rossini Opera Festival, contrattasi nel programma 2020 per rispettare le norme anti-covid. Ora ecco il roffa autunnale che comincerà il primo novembre allo sperimentale con il concerto finale dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda e si concluderà il 29 novembre con l'ultima delle tre recite in programma del barbiere di Siviglia messo in scena da Pierluigi Pizzi al roff 2020. Capo e coda di un roffa autunnale che proporrà anche due recite del viaggio a Rams con gli allievi dell'Accademia Rossiniana 2020 e ancora una selezione dei pescè de vieillesse eseguita dal pianista Alberto Marangoni e due rarità mai eseguite al roff come la messa di Milano e il Miserere. Così come siamo stati un po' limitati nella edizione normale di agosto cerchiamo di pareggiare i conti con le date, con le recite, con l'impegno nostro soprattutto in vista di un contatto maggiore con la città per cui faremo questa appendice alla edizione di agosto con diversi concerti e diverse recite d'opera. Io mi auguro che fra poco quando ci sarà il nuovo decreto ci si possa permettere di avere più gente in sala in maniera che più gente possa godersi delle belle recite che faremo. Il Barberio di Siviglia di Pizzi era stato salutato da tutti come una delle cose più belle viste e anche il viaggio a Rams con i giovani è sempre una gioia a sentire. Un meccanismo che si remette in moto, fa parte di una strategia ovviamente di fare lavorare attorno all'opera, attorno al festival, oltre all'edizione d'estate che ripeto rimane il fulcro però anche in tanti altri momenti, in questo caso con una produzione importante come il Barberio di Pizzi e poi subito dopo si sarà pronti per la tappa Inoman che rimane una costante di questi anni anche in termini appunto non solo di messaggio dell'Italia all'estero e della musica attraverso Rossini ma anche qui altro lavoro per gli artisti e per la maestranza per un settore che in questo anno particolare, tra l'altro anche particolarmente dovuto attendere ha particolarmente sofferto. Quindi a maggior ragione è importante questa operazione perché ripeto ci permette di fare cultura, di fare rivivere i teatri e anche ovviamente di dare più forza e più sostanza all'attività di Rossini per la festival. Domani 24 settembre è la giornata di celebrazione del patrono di Pesaro, San Terenzio e vi ricordiamo che le nostre telecamere di Rossini TV saranno nel Duomo per trasmettervi in diretta dalle ore 18 le celebrazioni della solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Monsignor Piero Coccia. Vi ricordiamo dunque l'appuntamento sui nostri schermi, appuntamento ancora più importante perché i posti all'interno della cattedrale saranno come ben sapete contingentati. I fedeli potranno seguire la liturgia anche da casa oppure sugli schermi che saranno predisposti sul Sagrato del Duomo ma anche nel cortile di San Terenzio. Si ricorda che per le norme di prevenzione al Covid quest'anno non si terrà la tradizionale processione. È invece prevista alle 11.30 di mattina una santa messa in suffragio di tutte le vittime del coronavirus. Pesaro è tra le eccellenze italiane del costruire sostenibile. A stabilirlo è stata GBC Italia in occasione dell'undicesima edizione della World Green Building Week che ieri ha proclamato le migliori realtà di stintesi per l'edilizia green. Il comune di Pesaro è stato premiato grazie al suo progetto Pesaro, città amica dell'ambiente. E ora ci spostiamo a Fermignano perché domani, giovedì 24 settembre alle ore 21, si presenterà nel Salone Comunale il progetto di costruzione della nuova scuola primaria Donato Bramante. Il nuovo edificio che sorgerà nel quartiere Calpino ospiterà 500 studenti e sarà una delle più grandi scuole della regione autosufficienti dal punto di vista energetico. Ed ora parliamo del Festival Hangar Fest che ha concluso la rassegna di video Danza Interfaccia digitale con 30 opere in concorso dall'Italia e dall'estero. A vincere Rossana Abritta premiata con 1500 euro da spendere in una nuova produzione di video Danza da realizzare proprio a Pesaro. Domani, giovedì 24 e venerdì 25 settembre, al teatro della Maddalena Hangar Fest proporrà invece il progetto coreografico Collab. Nelle stesse due giornate alle ore 18 andrà in scena lo spettacolo figure correlate, mentre alle ore 20 la performance configurazioni. In questo prossimo servizio parliamo dell'importante opera di salvataggio artistico che consentirà alla città di Pesaro di conservare 71 moto storiche del Museo Morbidelli da una spiacevole fuga verso l'Inghilterra. Riduttivo parlare di motociclette, più corretto chiamarle opere d'arte. Tali sono le 71 moto storiche appartenenti alla collezione del Museo Morbidelli che resteranno alla città di Pesaro grazie all'intervento del Ministero dei Beni Culturali che ha bloccato l'esportazione verso l'Inghilterra dei pezzi motoristici con più di 75 anni di età. Ovvero circa un terzo della collezione Morbidelli resta alla città, scongiurato lo smembramento radicale del patrimonio che il compianto Giancarlo Morbidelli organizzò nel 2000 in un museo unico nel suo genere. Morbidelli, autentico genio della meccanica, è scomparso lo scorso 10 febbraio ed ora il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha già pensato a una destinazione per le opere recuperate, un'area di 2000 metri quadrati all'interno dell'ex tribunale di via San Francesco. Un'opera di salvataggio che ha mobilitato non solo il comune di Pesaro ma anche l'Associazione Terra di Piloti e di Motori, il club pesarese di auto storiche dedicato a Dorino Serafini e soprattutto l'Asi. Con un sborso di poco inferiore al milione e mezzo di euro l'automotoclub storico italiano ha infatti acquistato i 71 pezzi d'epoca lasciandoli a Pesaro. Noi siamo veramente orgogliosi di essere entrati in possesso dei veicoli a cui non era per il momento stato data la possibilità di circolazione e quindi di esportazione e quindi questo nucleo importantissimo, veramente importantissimo di veicoli saranno la base, il nucleo di quello che potrà essere un futuro museo della motocicletta qua a Pesaro in cui la collezione Morvidelli ovviamente sarà la cosa più importante perché per noi come appassionati di motorismo storico e come ente nazionale che tutela e promuove il motorismo storico poter ricordare il nome di Giancarlo Morvidelli è veramente di un'importanza assoluta per quello che ha rappresentato non solo per il motorismo stesso ma anche per le doti umane di amicizia, di condivisione, di semplicità, di umiltà che aveva e per cui lo apprezzavamo veramente tutti. Mibat ha controfirmato il primo accordo quadro prendendosi l'onere non solo di benedire questo accordo che abbiamo avuto con la famiglia Morvidelli che ringrazio perché da quando abbiamo iniziato a parlare con Gianni e Letizia Morvidelli abbiamo avuto una sinergia di intenti totale ma si è preso anche l'onere poi di accompagnare Asi e Comune di Pesaro nella quella che sarà l'obiettivo fondamentale quindi che sarà non solo la tutela ma anche la promozione e la possibilità di rendere fruibile a tutti quindi alla popolazione al pubblico questo importantissimo patrimonio motoristico per far sì che effettivamente si concretizzi nella realtà la possibilità di insomma farlo godere a tutti e far condividere la passione. Sicuramente abbiamo trovato un accordo perché poi erano stentati un veicolo che come come lei sa alla fine non si erano mai allontanati in questo momento da Pesaro ma stavano per partire diciamo certamente per Inghilterra però alla fine anche col Mibat abbiamo avuto un colloquio assolutamente positivo quindi stiamo facendo tutti i passi necessari in perfetta sinergia con loro per far sì di raggiungere l'obiettivo finale che è comune in cui sicuramente il Mibat accompagnerà anche i comuni di Pesaro. Ed ora gli appuntamenti nella nostra bellissima provincia per il prossimo weekend infatti sabato 26 e domenica 27 settembre nella piana di Talacchio torna a una nuova edizione della fiera di San Michele Arcangelo una quarta edizione dedicata all'agricoltura e ai prodotti tipici che sarà replicata anche per un secondo weekend cioè quello del 3 e 4 ottobre. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Vallefoglia Palmi Rucchielli. Come si vede io sto con la mascherina e quindi la fiera si terrama nel rigoroso rispetto delle regole che sono il distanziamento sociale, l'igienizzazione e le mascherine perché se siamo bravi a non riportare nelle relazioni internazionali il virus possiamo recuperare e diventare tra i primi paesi europei del mondo come paese Italia. La fiera è una delle opportunità che vogliamo dare non solo agli agricoltori di questa vallata perché ci sono due o tre momenti di riflessione sull'economia e il futuro dell'economia del dopo Covid e sui temi del melograno che è una produzione importante che la ritroveremo anche nella diciamo nella fiera e nell'esposizione che faremo nell'ultimo weekend di novembre e dicembre quando parleremo di tartufo, di olio extravergine d'oliva e di melograno quindi facciamo una riflessione anche sulla produzione del melograno nella fiera di Talacchio e poi una riflessione su questi maledetti insetti che danneggiano enormemente l'agricoltura. Poi ci sono momenti di divertimento, momenti di produzione e di riflessione dell'economia agricola. L'inaugurazione sarà sabato prossimo alle 17, il taglio del nastro, ho invitato il nuovo presidente della giunta regionale, i consiglieri regionali eletti quindi diciamo coinvolgiamo tutte le istituzioni a prescindere da chi sono di volta in volta governate. Ed ora la programmazione su Rossini TV, questa sera vi consiglio davvero di non perdervi questo approfondimento. Innanzitutto avremo in studio degli ospiti d'eccezione, abbiamo l'arcivescovo Piero Coccia e poi abbiamo Wilberto Stocchi, rettore dell'Università d'Urbino e assieme a loro ci sarà anche l'assessore al comune di Pesaro Giuliana Ceccarelli, un dibattito in cui si parlerà dell'omicidio di Willy, un omicidio che ha avuto una valenza nazionale ma anche mondiale e si affronteranno tanti argomenti riguardanti soprattutto i giovani con questi luminari che appunto vedrete sui nostri studi. Questa sera alle 21.15 replica anche alle 22.30. E io vi ricordo anche che domani per la festa del patrono di Pesaro trasmetteremo in diretta alle ore 18 su Rossini TV ma anche sulla nostra pagina Facebook la celebrazione della Santa Messa dal Duomo di Pesaro per celebrare appunto il patrono della città. Per tutte le vostre segnalazioni vi ricordo sempre il nostro numero, grazie per scriverci sempre, mandarci messaggi e segnalazioni, cerchiamo di risolvere tutto quello che non va nella città e in generale nella provincia di Pesaro Urbino. Il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani mattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini.